Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Oggi parliamo dell'Italia antica, quindi l'Italia durante la pre-storia. Prima però ricordatevi di lasciar un mi piace qua sotto, iscrivervi al mio canale e seguirmi anche su Instagram, mi trovate come Diario di Charlotte. L'Italia pre-storica, vedete qui la cartina, è un vero e proprio mosaico di popoli. Liguri, Camuni, Veneti, Latini, i popoli dell'Italia pre-storica vivono di caccia e di pastorizia. Riavvolgiamo quindi stile macchina del tempo e arriviamo nel Neolitico. In Italia il Neolitico inizia intorno al 7000 a.C. e pensate i primi insediamenti neolitici sono in Basilicata e nelle Puglie. La rivoluzione agricola arriverà nel vicino Oriente intorno al 10.000 a.C. Quindi siamo un po' in ritardo rispetto all'Oriente. Già questo è un elemento che ci fa pensare. Comunque sia, la vita del Neolitico è una vita dedicata alla pastorizia, all'agricoltura. Durante l'età del bronzo, quindi intorno al secondo millennio a.C., in Italia si stanziano delle popolazioni indoeuropee e mediterranee. Vedete qui la cartina. Avremo tre civiltà molto importanti. La civiltà palafitticola, la civiltà terra-maricola e la civiltà appenninica. E ora le vediamo con ordine. La civiltà delle palafitte. Che cos'è una palafitta? Lo vedete qui dall'immagine. Sono delle costruzioni che venivano edificate su delle palafitte lungo le rive dei fiumi e dei laghi. Quindi le popolazioni si stabilivano su questi villaggi costruiti su palafitte. Queste civiltà possiamo collocarle nelle zone che oggi corrispondono alla Lombardia, al Trentino e al Veneto. Un'altra civiltà molto importante è quella delle terra-mare. Nel 1600 a.C. nella Valpadana si formano i villaggi stanziali e le popolazioni vivono in villaggi sì sempre di palafitte, ma questa volta non costruite sulle rive dei fiumi e dei laghi come nel caso della civiltà delle palafitte, ma circondate da fossati e cumuli di terra derivati dalla terra marna, una sorta di terra grassa. Quindi come vedete anche dall'immagine notate che qui la palafitta è conficcata però su cumuli di terra, non più sulla riva del fiume e del lago. Le case erano organizzate in spazi regolari e orientate secondo assi ortogonali. Le porte d'ingresso erano disposte approssimativamente a mezzogiorno. Il focolare era collocato su una base circolare di argilla e accanto si apriva una botola dalla quale venivano gettati la cenere e i rifiuti che poi si accumulavano sotto la piattaforma formando degli scarichi conici. Questi popoli, delle civiltà delle terra mare, praticano l'agricoltura, l'allevamento e lavorano il bronzo. Molto importante quindi la lavorazione dei metalli. Sono anche abili nella costruzione di canali sia per scopo di difesa ma anche per irrigare i campi. Campi fertili grazie al fango che depositano il po e i suoi affluenti. L'ultima civiltà dell'Italia durante la pre-storia è la civiltà degli appennini. Quindi lungo l'appennino fino alla Puglia ci sono dei popoli di pastori che praticano la transumanza. E una particolarità di queste civiltà degli appennini è la tecnica di sepoltura di cui abbiamo parlato proprio nel video dedicato alla pre-storia che comunque vi lascio qui per un ripasso generale. usano delle sepolture a dolmen e lo vedete qui. Vedete un'immagine che ci rappresenta proprio questa tipologia di sepoltura. Noi abbiamo parlato di dolmen, di menhir, nelle video-lezioni proprio dell'inizio dell'anno. In Sardegna però si svilupperà un'altra civiltà, la civiltà nuragica. Dal XIX secolo a.C. abbiamo i nuraghi. Li conoscerete perché sono iconici. Sono delle fortezze con delle torri. Queste torri sono a forma di cono tronco e venivano costruite con dei grossi massi uniti a secco. Questa civiltà era una civiltà aristocratica fondata da due classi. I guerrieri che vivevano proprio in questi nuraghi, non so se qualcuno è stato in Sardegna e ha avuto la fortuna di vederli, e i contadini e gli agricoltori che non vivevano in queste fortificazioni ma nei villaggi. Passiamo ora all'Italia nell'età del ferro. Soffermiamoci dunque sulla zona di Bologna, dove gli Umbri si stabiliranno. Gli Umbri erano dei popoli che provenivano dall'Europa centro-orientale. Intorno al 1000 a.C. si diffonde la civiltà villanoviana. Perché vi ho detto parliamo di Bologna? Perché la civiltà villanoviana prende il nome da Villanova, che era una località presso Bologna, dove sono stati proprio rinvenuti i primi resti archeologici. Questa civiltà si diffonde poi in Emilia e anche in Toscana. La civiltà villanoviana, che è un'altra delle civiltà dell'Italia durante la preistoria, lavora al ferro e pratica l'incenerazione funeraria. Vedete qui questo strumento che serviva per tenere le ceneri. Quindi pensate come erano avanti per quanto riguarda le tecniche di sepoltura. Nell'Italia meridionale invece abbiamo gli Itali e Notri, in Calabria, e i Siculi, i Sicani e gli in Sicilia. Le Notria quindi, nella zona della Calabria. Cioè, le Notria, la vedete anche qui dalla cartina, comprendeva parte della Campania, i tempi, della Basilicata e della Calabria per l'appunto. E il nome deriva da Oinos, vino, perché era considerata la terra del vino. Ricordiamoci poi che l'Italia subisce anche la colonizzazione greca. Abbiamo parlato della prima e della seconda colonizzazione nelle video lezioni dedicate. Nell'VIII, VI secolo a.C. abbiamo delle zone costiere dell'Italia meridionale e della Sicilia che sono colonizzate dai Greci, che introducono in Italia l'alfabeto, le tecniche di lavorazione del ferro e nuove piante come la vite. Alla prossima video lezione dedicata agli Etruschi. Alla prossima video lezione.